È una vera e propria vasca dove viene riempita l'acqua con del sale, si toglie il suono, si toglie la possibilità di toccare qualsiasi cosa e lì al buio hai la deprivazione sensoriale. Dopo un po' sento che le mie braccia si alzano e vanno per conto loro perché non riescono nemmeno più a parlare. Era una cosa strana perché proferire parola mi viene quasi difficoltoso. Come se qualcuno avesse cancellato tutto, percepivo il battere del mio cuore, percepivo tipo le ossa del mio corpo che si muovevano e lì mi sono reso conto che ero ancora vivo e poi a un certo punto... BAAA! È stato un trauma, è stato veramente uno spavento perché penso di essere tipo morto tre volte e risorto, mi è crollata addosso la telecamera.